Tutta a posto, tutta a posto. Allora carissimi genitori, carissimi bambini, le matite ci sono. Oggi il sindaco su tutti i giornali lo ha comunicato, finalmente sabato aprirà la scuola. Ci ha tenuto a comunicarlo oggi con comunicata stampa perché oggi è primo marzo, altrimenti lui sapeva che noi le promesse le manteniamo e avremmo occupato la sua stanza. Così ha evitato l'occupazione della sua stanza, siamo sicuri questa volta, la sesta volta che promette che aprirà la scuola. Gli consigliamo, se vuole sentire almeno una volta il nostro consiglio, di fare un bagno di umiltà, di chiedere scusa ai nostri bambini che per tre anni gli è stato sottratto una delle più belle strutture che avevamo come edilizia scolastica e chiedere scusa ai genitori. Ah, dimenticavo, sindaco, manca qualche partita, addirittura una mezza partita. Mi raccomando, sabato deve essere tutto per te, vai mettere le tre mattite. Grazie. 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 Grazie.